Ed ora con Luca Pompei in collegamento con la nostra redazione social parliamo delle polemiche che in realtà avevano già preceduto e che seguono dopo il suo svolgimento il raduno di fuoristrada a Villalago dello scorso weekend. Luca allora che cosa è successo e soprattutto quali sono anche i documenti che sono emersi da parte di chi ha lamentato problemi per questo evento? I timori che si sono rivelati fondati quelle dei ben quattro associazioni Salviamo l'Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, Lipu Abruzzo e Altura perché guardate ecco dalle immagini che sta mandando adesso Dino D'Angelo che cosa è accaduto a Villalago. Un raduno di 140 fuoristrada autorizzato dalla comune di Villalago, una manifestazione sulla quale insomma avevano mostrato perplessità queste associazioni rispetto ai pericoli che si potevano incontrare. Insomma è tutto spiegato in queste immagini fuoristrada che devastano alberi tutto ciò che incontrano in alcuni casi addirittura sono dovute intervenire le ruspe per sradicare gli alberi e consentire fuoristrada di proseguire il loro percorso. Una sorta di devastazione totale in un'area tra l'altro Carmine la riserva naturale del lago di Scano quindi parliamo di un'area estremamente preziosa per la natura abruzzese. Tra l'altro le associazioni sottolineano come questa manifestazione si sia rivelata pericolosa anche per la fauna non solo per la famosa orsa amarena e i suoi cuccioli che in quelle zone sono stati avvistati in diverse circostanze ma anche per i cervi e altre specie animali. Per non parlare dell'inquinamento acustico, dei rombi, dei fuoristrada e delle ruspe e anche l'inquinamento atmosferico pensando agli scarichi di questi mezzi. Fernando Gatta, il sindaco di Villa Lago, aveva assicurato tutti rispetto alla bontà di questa manifestazione ma come vedete grazie anche all'ampia documentazione che ci hanno fornito queste associazioni la situazione è tutt'altro che rassicurante. Altre immagini, altre considerazioni ovviamente nel corso del Tg di questa sera alle 19.30. Te Carmine.